I brachistriani che sono nuovi Oggi siamo su questo bellissimo gioco Che lo sognavo da sempre E ora finalmente Siamo a questo bellissimo gioco Qua c'è casa Ok perfetto Fammi vedere Oh mio dio No questo Vestito Io mi metto Questo qua è troppo bello Pantaloni Così E mani Pinguino Un po' di due Adesso che le braccia sono più da un mano Quindi mi mettiamo da un mano E questo dovrebbe essere I piedi Mi mettiamo sempre così Perfetto Aspetta Ah vero non l'ho messo applicato Allora Tutto Allora faccio un mano Dai Tutto umano Guardite Questo Ah colore No che bello Sì il colore Beh io voglio Nut 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 Questo è bellissimo Allora lo voglio Pagliere Questo Il cappellino Il cappellino Lo voglio Blu bellissimo La paparella Così No Così Ecco qua Ah Bellissima Rossa Questa Così Pantanoni Voglio Gialli E Questo Nero Applica Perfetto Una bellissima Nuova skin Facciamo Locale Ovviamente Beh io un po' C'ho giocata Questo gioco Però ho fatto solo Il primo livello Il secondo Lo faremo insieme Allora Quando atterriamo Aiuto Ah Questa nuovissima serie È bellissima Quando te Aiuto Oh Che culo Oh aggrappati Porca miseria Porca miseria Devo andare là Il problema Ah va Sono scena Sono scena Ok Ho un'idea Allora Però qua in toria Non si può Sare Vedi 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 Allora Allora Ho un'idea Guarda Restato Lei Ho 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 sbagliato Vabbè No Rifacciamo il livello È molto meglio Allora Sfruttiamo questo G Ecco Perfetto Ora Sfondiamo la porta Facemi entrare Perfetto Questo livello Già l'ho fatto Quindi Ok Non ci riuscite Andare alla fine Ma Troveremo un modo Per andare alla fine Perfetto Adesso andiamo Perfetto Quanto è bellissimo Levate Questo livello Già l'ho fatto 3 3 Milioni Di volte Questo Mettiamo Qua Cioè l'ho fatto Solo Una volta Questa la seconda Ecco Facciamo questo Più qua Facciamo Tipo Ecco 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 Così Perfetto Allora Contiamo che io sono da play A un momento fatto da play Non è così tanto Cioè Facile Diciamo Quindi Ovviamente Sono da play Precision 4 All mio compleanno Ve lo ho il 20 novembre Avrò la playstation 5 Ok Perfetto Come vediamo che non c'è Fatta riproviamo Facciamo così Un po' più Avanti Perfetto Un po' più avanti Almeno Faccio un piccolo saltino Almeno più facile Proviamo così che Io c'era riuscita a mani nude Ma adesso È un po' più complicato Perché Non ci gioco da ieri A questo gioco C'era l'altra giocata Poi l'ho smesso già Perfetto Facciamo così E così Mamma mia Il top Il top Il top Voi avete fatto Cambio stagione Io sì Ovviamente Perché È troppo caldo Vedete che sono con la paperella Ma comunque Possono cambiare Questa è la mia skin originale Perfetto Andiamo subito sopra Perché Questo posto Secondo me Ecco Da questo punto Io mi ero fermata E io svengo Oh sì Oh sì Ok Faccio Scherzi Perché c'è sempre Sto coso Secondo modo Lo prendo Ok Perfetto Prendilo Ah vabbè Alzati Alzo È molto meglio Ok Ho trovato un'idea No Aspetta Addio Ok Paccati Oddio Oddio Perfetto Oh mio dio Ok Perfetto Aspetta Vai Vai Con il tiro Vai Perfetto Ok Perfetto Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Così Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Di nuovo E proprio Oh cavolo Mi suicido Aiuto Ecco Eccolo Eccolo Vabbè Però Sì Non becco Non becco E sali Ce l'ho fatta Ok No Dai Vabbè Allora Però fa Un'idea Intogli Si faccio Un piccolo Piccolo Saltello E lo potrei fare Intoglia Ok È un po' difficile Di quanto pensavo Ma comunque Devo cercare Di salire Là sopra Bene Là sopra Come si faccio Ad arrivare Di questa cosa Non serve a niente Ok Sarebbe qualcosa Ah Ma vai via Fai male il pulsante Già lo so I I Mi 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 Ok S*** Ah Ok Perciò Ok 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 No No Vabbè Faff!! And Was This What What Is This Vabbè Vabbè Divini Si uccide Perché Devo Trovare Un Modo Per Aggrapparmi We Yeah Aiiii Aiiii ce l'ho fatta dimmi di si alzati è troppo facile dai è troppo facile oh ok no allora devo fare così io provare aspetta ecco aspetta 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 ecco perfetto provo così che forse cambia qualcosa perché se no alla fine ok io voglio proprio mettere oh cacchio va bene va bene e e se no non so proprio come fare qua ci sono molte molte fellovie qua se faccio così questo non serve niente ci ho provato 3 milioni di volte e non serve a niente allora trovare un modo un po' più specifico diciamo devo provare a salire là ma come faccio a salire là? questo è il problema e questo perché faccio faccio un abbraccio non mi abbandonare perché potrebbe essere anche difficile prenderlo oddio ho trovato forse ho trovato un modo forse ho trovato un modo eh sì vabbè io mi butto mi suicidio tieniti eh sì vabbè tieniti mi sono buttato dall'altro palazzo tieniti un cazzo non è non è che Giorgio fa eh allora cerchiamo di salire per la primiesina volta andiamo là bravo bravo bravissimo ecco qua se noi cerchiamo di salire e per bene facciamo che questo lo lasciamo e se no andiamo vabbè senti vai ovvio 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 prego sali vabbè ma come cacchio faccio? è impossibile tieniti tieniti perfetto perfetto l'altro l'altro bravo bravissimo aspetta più in alto ancora più in alto ancora più in alto e vabbè ecco ce l'ho fatta no ma dai come faccio? è impossibile o cerco un modo di fare così? di oppure faccio così oppure faccio così niente qua troppo guadagnato ok va bene va bene oppure faccio così è totalmente impossibile e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè allora io voglio cercare un modo per salire se rivedere lo so facendo ormai da tre ore qua tutto spaccato c'è una bellissima scala era meglio ma se non c'è una bellissima scala io muoio attenditi attenditi sì no no e no e no e se io dico no e no perfetto vai ecco bravissimo bravo però grazie non scivolare grazie ho detto non scivolare grazie non scivolare grazie al cocchio non scivolare ok non scivolare non scivolare maledetto no scivolare aiuto e e e e e e ok perfetto e oh ok un diafetta mi ammaggio aah aah poi vado verso la oddio e vabbè vabbè prende e e e e e ce lo posso fare ce lo posso fare ce lo posso fare e ecco perfetto oh 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 in Ok, perfetto Oddio, oddio, oddio Oddio, oddio Ok E dai però È impossibile Come faccio Ad arrivare là Come faccio Olmai da mezz'ora Questo cosa Questo livello brutto schivoso Jet point Ah Perfetto Non capisco Jet point Ok, perfetto Jet point, jet point Ora vai là, jet point, jet point Oddio Perfetto Ok, ok Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo quasi Ci siamo quasi Ci siamo quasi Siamo quasi, siamo quasi, ti prego, please, 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 voglio solo che ce la posso fare, voglio solo che ce la posso fare, ecco, sì, sì, ce l'ho fatta, oh, finalmente, finalmente, mi butto tutto, sì, ce l'ho fatta, il portaserm per termine tutto, questo qua, ah, capisci, ho capito, vedi qua, scatola, devi rimanere là, facciamo un patto, va bene, scatola, devi rimanere proprio dove ti ho detto adesso, ti ho detto, vieni qua, brutta, schifo, la scatola, vieni qua, brava, brava, bravissima, bravissima, perfetto, perfetto, ciao, vieni, sempre stesso livello, vabbè, vieni, la scatola, scatola, vieni qua, vieni qua, perfetto, perfetto, e ora noi, noi insieme, che tu, dobbiamo venire qua, stupida, scatola, vieni qua, vieni qua, eh, no, eh, vuoi fare la cattiva, vuoi fare la cattiva scatola, vuoi fare la cattiva scatola, ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta, ah, eh, che per te non ho capito e qua però devo mettere la scatola non ti ho dimenticato vabbè raggiungo ok allora prendiamo la scatola vieni qua vieni vabbè subito ecco perfetto ok adesso vieni con me bella scatola molto molto bella ti faccio un bel regalino se tu fai questo pensierino per me per dove sei scatola ah la sei arrivata stupida scatola maveretta beh tu oggi il tuo giorno fortunato tu vieni con me ho detto che tu vieni con me mi sa che ho un'idea sono un genio mi sa che io devo fare così ecco perfettamente così e poi cercare un nuovo io sono un genio cioè sono sono un genio lo dico dai sono un genio vieni qua bello nè vieni qua bella scatola ci sono nè bella scatola basta vieni perfetto allora premiamo questo bottone e ci fai scatola scatola mia ora ti metto al tuo bellissimo posto e poi tu mi obbedisci capito? tu mi devi obbedire mi devi obbedire tu ecco perfetto ora ti faccio venire con me perfetto in questo bellissimo viaggio ecco 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 ho sbagliato qualcosa facciamo così ecco 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 c'è questa cosa, in mente, perfetto facciamo quattro e vedo ovviamente allora è tutto perfetto e lì è stato arrivati, perfetto cioè non siamo arrivati, è arrivato l'ascensore ma non noi e e comunque ci sono nei commenti e di base è un manso perfetto, ora io cerco di spingere questa cosa la, notte scatola eh, facciamo un po' di passetti insieme a scatola e l'ho sbagliato diciamo che l'ho sbagliato possiamo mettere questo un po' di qua, oh perfetto lo stavo facendo da 3 ore lo stavo facendo da 3 ore che l'altro lo stavo facendo da 3 ore e qua non basta e qua non ci potresti mai passando perfetto stiamo per salire scatola ogni tanto già ti prendo scatola sei una generosa perfetto scatola ora ora io ti metto qua io faccio un bel saltino e ti porto lì 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 e perfetto vabbè sai che facciamo questo livello lo faremo alla prossima e ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo alla prossima aaaa e quindi vi saluto con un carissimo guarda quella porta con carissimo già buurdu bella ciao ciao ciao